ciao a tutti oggi prepareremo la granita di ciliegie il tempo di preparazione della ricetta è di cinque minuti circa gli ingredienti sono zucchero semolato ciliegie e ghiaccio a il via alla ricetta vi ricordiamo che dovrete prendere il ghiaccio 10 minuti prima di iniziare la ricetta e che le ciliegie dovranno essere snocciolate il peso delle ciliegie si riferisce infatti alle ciliegie già snocciolate iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 finiamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo le ciliegie snocciolate e azioniamo il bimbi per 10 secondi sempre a velocità 10 finiamo sul fondo del boccale aggiungiamo il ghiaccio chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo al posto del misurino la spatola e azioniamo il bimbi per 30 secondi da velocità 6 a velocità 10 spatolando la granita è pronta serviamola subito granita di ciliegie nella versione con e senza panna grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti